I nero azzurri, i nero azzurri, ragazzi stasera andiamo a ritirare, non a prenderci, a ritirare il pass per gli ottavi di finale prima squadra in ordine di tempo italiana che raggiunge gli ottavi di finale cosa? ho detto squadra italiana ragazzi comunque per quanto riguarda stasera, intanto oggi è un giorno strepitoso stiamo tutti bene, tutti felici, lavoriamo tutti, tutto quello che volete però ieri abbiamo goduto vedendo una Juve prima notizia del giornale indagata come sempre ragazzi diciamo che a vita, mamma che caldo, a vita si susseguiranno indagini su indagini poi ragazzi loro sono il potere, finirà tutto con bolla di sapone cioè noi gioiamo per il fatto che le plusvalenze, Ronaldo hanno simulato un pagamento di 20 milioni che stiano nel giusto, difficile, o stiano nel torto, comunque ne usciranno puliti o comunque veramente la punizione sarà minima e ve lo posso mettere per iscritto perché il pubblico ministero aveva chiesto già la carcerazione, tra virgolette, la condanna per Agnelli da quello che è trapelato però subito è stata respinta, anche perché ragazzi per qualcuno Agnelli non è un delinquente, per qualcuno come me magari è peggio del bandito che ti viene a fare la rapina alle 4 di notte in casa comunque stasera andiamoci a prendere la qualificazione e voi direte, voi che guavvenite a spiare questo canalino perché è ancora un canalino, non è un canalone e quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella, iscrivetevi e cerchiamo di far arrivare anche Diego Ligorio, Diego a 10.000 porca di quella troia deve arrivare a 10.000 prima di me visto che gli è stato tolto un canale che con il sudore, con le lacrime, con le gioie, con gli sfoghi con le difese verso la nostra squadra gli è stato tolto per colpa di un'ingenuità o per colpa di qualche infamità ma tornando a noi è inutile che fate voi che venite qui a spiare ma tanto uscite agli ottavi intanto siamo la prima squadra italiana italiana che si è qualificata punto intanto per il secondo anno consecutivo dopo che abbiamo vinto uno scudetto ci hanno indebolito un anno non ci hanno rinforzato l'anno dopo ancora intanto ci qualificheremo con un girone di ferro Bayern Monaco e Barcellona in casa le abbiamo rotto il culo in casa loro dal punto di vista della performance le abbiamo rotto il culo e quindi io sono soddisfatto ovviamente qualcuno dell'Inter noi siamo l'Inter dobbiamo ambire ragazzi noi non possiamo ambire più a certi traguardi non possiamo ambire non possiamo ambire a vincere la Champions League però un ottavino contro una squadra magari che non è proprio il Paris Saint Germain non è proprio il Manchester City non è proprio il Real Madrid io me la andrei a giocare poi lo vinci va ai quarti esce ai quarti tanto orgoglio tanto onore per questi ragazzi intanto bravi 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 perché ragazzi l'abbiamo visto ieri l'abbiamo visto ieri la Juventus l'abbiamo visto ieri la Juventus col Benfica il calcio italiano rispetto a tutto il calcio europeo principale compreso Portogallo e forse Francia dal punto di vista tecnico è veramente di livello bassissimo quindi onore a noi che ce l'andiamo a giocare che riusciamo almeno ad arrivare tra le prime 16 squadre d'Europa per il resto poi testa la Sampdoria ma adesso godiamoci questa serata godiamoci per la seconda qualificazione con una squadra che non può competere in Europa ma comunque seconda qualificazione quest'anno migliore rispetto all'anno scorso molto più brillante rispetto all'anno scorso in due anni quindi viva l'Inter ragazzi viva l'Inter e vivano interisti fortunatamente ragazzi non siamo come loro loro indagati noi qualificati noi qualificati loro indagati vi lascio il link qui sotto parleremo tra come tutte le mie live canoniche tra primo e secondo tempo al posto andate a pisciare fate la pausa pipì e poi venite sul mio canale vi lascio il link impostate il promemoria così ci facciamo compagnia durante fine primo tempo viva l'Inter ragazzi dai ciao